Un commento sulla vostra prestazione della partita di oggi? Allora, innanzitutto un saluto a tutti i nostri telespettatori. La partita di oggi è un casoria che non è il solito casoria, ci aspettavamo sicuramente un calo di tensione, vista la matematica, la certezza del passaggio in eccellenza, però mi sento anche di fare i complimenti alla Virtus.Goti perché comunque è una squadra che gioca in un calcio maschio e hanno espresso anche un buon gioco. Un piccolo incidente di percorso ci può stare, comunque siamo una squadra che riesce sempre ad esprimere un certo gioco, però il pensiero va già alla prossima di campionato. Dunque, non pensiamo oggi, proiettiamoci già alla prossima partita, ma soprattutto alla festa che è prevista. Sì, ne approfitto subito di questa domanda che mi fai per invitare i tanti, sia tutti i tifosi casoriani, ma anche i tanti simpatizzanti e ne approfitto anche per fare un invito a tutti coloro che pur non amando il calcio, però amano lo sport e quindi sarà sicuramente sabato una bella giornata di sport per tutti con delle gradite sorprese per tutti coloro che ci daranno il piacere e l'onore di essere presenti sabato al San Mauro.